Ciao Fabio. Ciao Claudio. Senti, io l'altro giorno ero in una fabbrica e ho trovato questo bellissimo interblocco con la chiavettina, che è una cosa intelligente se usata bene e una cosa blasfema se usata male. Sì. Allora, prima cosa è, spieghiamo cos'è un interblocco. Cosa serve con la scatoletta nera e rossa? Allora, serve per controllare, per verificare con un dispositivo di sicurezza, se una porta è aperta o è chiusa. Quindi, se è chiusa, lui rileva che è tutto sicuro e la macchina può funzionare. Se è chiusa, chiude un doppio contatto che arriva in un dispositivo di sicurezza, che vuol dire che la porta è chiusa, sicuramente chiusa. Ok. Poi c'è la chiave. Quella chiave cosa fa? Allora, quella chiave serve per considerare la porta aperta, anche se in realtà è chiusa. Ok, quindi quando noi giriamo la chiavetta, quei due famosi contatti di cui abbiamo parlato prima, non si chiuderanno più. Quindi funziona che io ho la porta chiusa, ma la macchina non può partire. Esatto. Quindi lavori in sicurezza. Sì, serve. E' evitato che il collega mi faccia partire il robot mentre sto lavorando. Esatto, serve esattamente per questa cosa. Serve per le manutenzioni, cioè il manutentore dovrebbe avere in tasca questa chiave, tirarla fuori quando entra nella macchina, girare la chiavetta, rimettersi la chiave in tasca, entrare nella macchina, fare quello che deve fare. Ok. Poi prima di riuscire, rimettere la chiavetta, riportare e uscire. A questo punto la macchina può funzionare. E qui arriviamo alla mia domanda per cui stiamo facendo questo video. Ma se la chiavetta la lascio sempre inserita e quindi la macchina va sempre a porta aperta e a porta chiusa, è giusto? Può esserci questa abitudine sbagliata? Allora, in realtà qui può soltanto disattivare. Quindi uno potrebbe lasciare dentro la chiavetta e girarla. Quindi dico io sono lo manutentore, entro, giro la chiavetta. Qual è il rischio? Che io, siccome non ho la chiavetta in tasca, ma è lì dentro, qualcuno non mi vede la riporta nello stato di funzionamento, chiude la porta e se ne va. Quindi è un problema di sicurezza del manutentore che è entrato e ha girato la chiave. La chiave è sempre inserita per non perderla. Giusto? Poi il manutentore lo usa come se fosse un selettore, quando è dentro la gira, ma la lascio sempre inserita. Eh sì, esatto. Il problema è che qua poi oltretutto si vedono qua nella foto che le protezioni sono cieche da quel che si vede, quindi se uno chiude la porta non vede più dentro. Esatto. Quindi uno si trova che il manutentore è dentro, magari infilato sotto la macchina a fare quello che deve fare, pensando di essere sicuro perché la chiavetta è girata, ma un altro che non sa che lui è lì dentro, va e gli dice ma cos'è che fa sta chiavetta? La chiavetta è al suo posto, chiude la porta, fa partire la macchina, avvio in attesa. Quindi è una procedura a lotto applicata male. Esattamente. Esattamente. Invece la metto, la giro, ma la metto in tasca, è una procedura a lotto applicata bene. Perfetto, esattamente così. In teoria fuori uno dovrebbe mettere anche il cartello guarda sono dentro. Questo è ulteriore, se uno si mette la chiave in tasca è a posto. Grazie mille Fabio. Ciao Claudio, buona giornata. Grazie. 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 Grazie.